In questa lezione studieremo una storia che in qualche modo riguarda la Germania che era uno stato, ricordate, uscito sconfitto dalla Prima Guerra Mondiale ed era entrato in una fortissima crisi economica e sociale in questo periodo, alla fine della guerra In più in Germania si stavano diffondendo idee contrarie al partito socialdemocratico che guidava in quel momento il paese e era risultato colpevole di aver votato nel 1914 per andare in guerra E dunque questo movimento di nuove idee capeggiato da una donna, Rosa Luxemburg, aveva come idea principale di abbattere il vecchio apparato politico dello Stato del partito socialdemocratico tedesco E per questo motivo, insomma, nel 1919 esplose una forte ribellione, un'insurrezione che sembrava da un certo punto di vista simile a quella della rivoluzione russa Rosa Luxemburg aveva fondato questo movimento chiamato la Lega di Spartaco e aveva dato vita a questa ribellione Questa rivolta si diffuse in modo particolare a Berlino dove gli operai scesero in piazza Il governo, con l'aiuto dell'esercito e di volontari armati, represse duramente nel sangue questi moti rivoluzionari e sia la Luxemburg che l'altro protagonista di questa rivoluzione, Liebknecht, vengono arrestati e uccisi nel gennaio del 1919 Pochi giorni dopo questi sanguinosi episodi in Germania, nella città di Weimar, ci fu un'assemblea costituente che si riunì per fondare una repubblica democratica Nacque dunque un nuovo governo che dovette affrontare difficoltà enormi a causa, come dicevo all'inizio, delle disastrose condizioni economiche e morale del paese che era stato duramente punito dal Trattato di Versailles con perdite territoriali ricordate per esempio l'Arsazia e la Lorena restituite alla Francia e anche la richiesta di una somma ingente molto alta di denaro come riparazione della guerra Questa nuova Repubblica di Weimar si trovò ben presto quasi paralizzata, ferma, bloccata da questa sempre più crescente crisi economica e monetaria ma anche da una disoccupazione che aumentava sempre di più Le finanze pubbliche in Germania erano ormai a secco stremate e la svalutazione del marco tedesco non si fermava più era inarrestabile Sul nostro libro dunque leggete e studiate questo brano a pagina 140 guardate anche i manifestini che ci sono con le dinascerie che sono molto interessanti fate l'esercito numero 1 e poi anche rispondete sul vostro quaderno alle domande numero 2 e numero 3 Grazie 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 Grazie